Sono felicissima di essere qua, sono a casa, quindi l'applauso più grande non dovete farlo a me, dovete farlo a voi. Non si sente, faccia prima che lei che mi confessa, e vi stai finché a stare stane incinta, lei mi sapeva qualche cosa? Quindi è vero, le campagne non si sente niente. All'interno, ho visto che c'era questa bella festa, e ho detto, c'è adesso? Oh no! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.